Ma che succede? Scaglione! Ah, io non lo sveglierei. Messo? Scusate se abbiamo interrotto la vostra riunione, ma dobbiamo risolvere un piccolo problema. Suo figlio ha rubato la mia carriola. Ah, pardon, la nostra carriola. Una di un buggy rossa con una cappottina gialla. Sì, per l'appunto. Vogliate scusarmi un momento? Stiamo bene qui, grazie. Se voi ci ridate la nostra carriola, noi ce ne andiamo come se niente fosse successo. Vabbè, papà, moglie, mi chiediamo. Altrimenti che fate? Altrimenti che faccio? Non ci ho pensato. Non ci ho pensato. Normalmente a due come voi avrei fatto tagliare la gola. Ma siete fortunati, perché in questo momento ho altro da fare. Ora andate prima che cambi idea. La vostra macchinetta ve la porto domani a mezzogiorno. Ah. Beh. Ah, la mia ufficina? Dimenticavo, scusate, una cosa importantissima. Quelli del circo non se ne vanno. Riderci, grazie. Ma ci ho aperto qua? Operai. Oramai con il personale non ci si capisce più niente. Tre duca. Ecco. Benvenuti alla Crazy Four Rally. È la macchina di papà. Possiamo riprendercela insieme? Avete due giorni per filmare e andarvene. Se voi ci ridate la nostra carriola, noi ce ne andiamo come se niente fosse successo. Altrimenti che fate? Altrimenti ci arrabbiamo. Mi sento più ai piedi. È naturale, tesoro mio. Sono due ore che si chiusi in un frigorifero. Alcinema.